Dopo la preziosa vittoria in trasferta contro la Cireale, la San Cataldese si avvicina alla sfida di domenica prossima, 12 febbraio, quando allo stadio Valentino Mazzola arriverà il Castrovillari, reduce dalla sconfitta in casa per mano della capolista Catania. Per la squadra di Pietro Infantino, una partita da non sbagliare contro un avversario in piena lotta per la salvezza e alla ricerca di punti per esorcizzare la zona calda della classifica. Intanto in settimana l'allenatore Verdamaranto Infantino, ai microfoni della Sicilia, ha ribadito l'importanza di mantenere sempre alta la concentrazione, perché dobbiamo fare più punti possibili. Ci attendono tante gare difficili, ha detto, contro le squadre migliori di questo torneo. È un campionato complesso e fino a quando non arrivi ai 40 punti a concluso Infantino non ti puoi mai considerare salvo. Questa la ventitresima giornata del campionato di Serie D, Girone I, in programma domenica 12 febbraio. Alle 14.30 Catania Mariglianese, Santa Maria Cilento La Mezzia Terme, Realla Versa Cireale, San Luca Città di Sant'Agata, Fibonese Locri. Mentre con calcio di inizio alle 15, Trapani Canicattì, Licata Paternò, Ragusa Cittanovese e San Cataldese Castrovillari.